gentili amiche cari amici è tornato a trovarmi giordano berti massimo esperto di tarocchi che abbiamo in italia che mi ha portato delle chicche meravigliose io qua sul cuore una sibilla del cuore che è strepitosa lui ha in mano il suo libro sulla storia dei tarocchi e qua vedete un altro po di questi gioielli giordano cosa mai portato a parte la storia di tarocchi che è un libro essenziale fondamentale per chiunque voglia sapere tutto sui tarocchi da parte questo poi ti ho portato queste due la sibilla del cuore che tu ancora non conoscevi e queste due edizioni bellissime che sono il tarocco delle grottesche pubblicato da joan theodore de brie nel 1575 e i tarocchi di jansh abuso una roba pazzesca guardate la confezione amici voi siete già li avete già visti questi capolavori giordano ma ecco la gran maestro dell'ordine martinista tutti questi gioielli li trovate qui a parma e alla libreria libreria palatine editrice in via nazario sauro 20 ecco quindi guardate che già fai un giro intorno guardiamo che gioiello è questo e non trovate soli i tarocchi trovate un sacco di cose bellissime tutto arte quello ciao amici a presto grazie a presto grazie a presto